Per essere liberi professionisti servono coraggio, determinazione e talento. Ma serve anche un braccio destro, un fido alleato pronto ad aiutarti in qualsiasi momento, con burocrazia, percentuali e scadenze da rispettare. Capace di semplificarti la vita e farti risparmiare tempo prezioso da dedicare alla tua attività. Non ci chiamiamo fido commercialista per caso. La nostra è una dichiarazione di trasparenza. La scelta fiscale più conveniente per la tua attività, con l'esperienza di dottori commercialisti, per garantirti Ascolto, grazie a un consulente dedicato pronto per consigliarti in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Autonomia, con libero accesso ai tuoi numeri grazie a una piattaforma dedicata, pratica, intuitiva, completa. Agilità, con il servizio di fatturazione elettronica guidata per risparmiare tempo e denaro. Più fiducia, più sicurezza, meno costi. Questo è fido commercialista. Consulenza fiscale e aziendale per imprese e liberi professionisti. Inizia ora a risparmiare tempo e denaro da dedicare alla tua attività.